Minimo storico per l'andamento del coronavirus in Toscana, su oltre 2.200 tamponi analizzati, un solo nuovo caso nelle ultime 24 ore, a Pistoia. Le positività a Prato restano ferme a 565, così come resta fermo a 48 il bilancio delle vittime. A livello regionale sono invece 10.122 positivi all'infezione e 1.059, 4 in più rispetto a ieri, i morti. Nel bollettino diffuso oggi dalla regione si legge l'ulteriore miglioramento del dato relativo alle guarigioni, che sono 87 in più da ieri, raggiungendo quota 8.180, e di quello relativo ai ricoveri, che sono 89, 12 in meno di ieri, di cui 24 in terapia intensiva. È il punto più basso dal 9 marzo per le rianimazioni e il più basso dal 7 marzo per i ricoveri totali. Se si sottrae dal numero complessivo dei casi positivi, sia i decessi che i guariti, ad oggi in Toscana i positivi sono 883. Tolti i ricoveri si tratta di isolamenti domiciliari perché l'infezione c'è, ma i pazienti sono asintomatici o presentano sintomi lievi da non richiedere cure ospedaliere.